Gire, 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 gire. Approciate con le braccia, ma l'avversario parte subito con un ai. Non abbiamo il tempo di andare indietro con le gambe, di succede questo, ok? Da qua, volo, qua indietro, ok? Base sulla gamba dietro e non vi spaccate la schiera così, ok? Ok, gamba destra dietro, sinistro, a fianco il braccio, il destro copre, qua. Uno, due, tre, lini back, spingo con la gamba. Sei, tre, guide, l'avversario rispondito, toy tongue. Questo passaggio lo sbagliate quasi tutti, perché fate, sganciate, al di là che potrebbe mettere i tipi. Ma mettiamo anche in caso che non metti il tipi. La gamba è cinque volte più forte del braccio, lo perderete sempre questo conflitto qua. Da qua dovete solamente con il peso in avanti passare alla qua. Successivamente spingete con le gambe. Hop, e mettete là. Hop, 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 i, hop, hop, bam, i, bah, i, eh, i, eh, i. Hop, hop, i, eh, 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 i, eh. Hop, 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 ha, i, eh, eh, i, eh, 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 eh. Hop, 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 hop!